E' una persona che è un po' un simbolo anche per l'arma dei carabinieri, per le forze dell'ordine, decide di metterci la faccia. E' lui, Alessandro Casu, l'asso nella manica di Massimo Bitonci in tema di sicurezza. 43 anni, 23 dei quali passati in servizio nell'arma dei carabinieri, dal 2015 in congetto dopo che fu ferito alla stanga da uno spacciatore durante un'operazione antidroga, il malvivente lo colpì alla schiena e con un fendente di recisi i nervi della mano. Oggi scende nel lagone della competizione elettorale. E' un passo che mi ha segnato per la vita, perché purtroppo è così, però la politica sarà un forte riscatto per me sicuramente. E così Massimo Bitonci dà una nuova sferzata alla campagna elettorale cavalcando il suo cavallo di battaglia, la sicurezza. Rivendica il lavoro fatto nei due anni di sua amministrazione. Dalla modifica del regolamento di polizia municipale in poi, all'assunzione degli agenti, al lavoro degli agenti in strada. Ai controlli degli appartamenti, al decentramento di agenti di polizia municipale, la guizza è presto, spera anche la stanga, ma ancora molto dice c'è da fare e caso potrebbe essere l'uomo giusto al posto giusto. Ognuno darà il suo contributo in un modo o nell'altro, quindi nulla è escluso. E sulla sicurezza Bitonci non accetta lezioni, tanto meno dal suo diretto concorrente. Qualcuno arriva l'altro giorno e dice ah faccio io, sono io esperto. Io non ho mai avuto quella arroganza di dire, soprattutto quando ho cominciato molti anni fa, di essere esperto di tutto.